Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto E ragazzi eccoci qua con un nuovo video e visto che la settimana mi è piaciuto parecchio quello lì dei tiri Così questi tiri Visto che mi è piaciuto piarecchio Piarecchio Piarecchio? E niente Non mi spostate che mi fai cambiato Lo so ma non mi posso spostare più ne tanto Se non ci vedo Visto che mi è piaciuto piarecchio Niente oggi facciamo quello lì del cambio di visuale Cosa fai? Voglio sentire te per un attimo Vabbè facciamo il cambio di visuale Ok? Ma lo sai che ce l'ho meglio? A forza di guardare le foto dei mili Mi sa che hai due o tre E fanno un poffo ancora Altre casuale Uno, due, tre Udinese e Krasnotar Ci sta Tutto pronto? Allora fermo Si parte con la visuale Fondo campo Porca puttana che merda Cioè la visuale invece di che ce l'hai Invece di che ce l'hai così Ce l'hai centrale Quindi è più facile passare il centro Diciamo Se ne va Ames Ames Lo vedi? Non è fuori gioco Che cazzo fa? Perché non c'è andato? Signeremo Ah ma non è Ames Che cazzo sto dire Ma infatti Ames Ames Ma da quando si è preso il rallo Oggi lo vede In mezzo Lo prova Mamma mia Madonna che tiro di merda Che ha fatto No Oddio Oddio Sul primo po Mamma mia Sti tiro incredibili Mamma mia Per via centrali Ancora Pereira 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 La finta Pereira Che cazzo Quella si riesca a togliere sta palla Mannaggia Oh Pereira ancora Oh Ma quanto cuore è questo Bezzo di merda Se te la caghi sta bocca Di meno Mamma mia Tu che tirerete Pereira Sì dispera Dall'anno Ma vaffanculo Va Quanto passa a te Fazione di gioco Cambio visuale Mettiamo Professionista No Bella televisiva Dai Ci sta Ci sta Vai con la televisiva Mamma mia No Oh mio dio Mamma mia No Cari qua mi stanno a fare male l'occhio Oddio Gira proprio la testa Però è proprio Quella televisiva Grazie al cazzo Si chiama televisiva Dai no che culo Oh Ma io pensavo che era replay Io non so dove andare Non so se sto andando dritto No vero Non ce ne so a capire niente Regà Oh non riesco a capire dove sta Come è mai passata te Ciao Si è partito Ciao Vitbear 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 Guarda come ti ho chiuso Ti ho passato dietro Vitbear Dai Ma hai distrutto un orecchio La botta da fu Guarda che non stanno a giocare Non ci stanno più a dire Vero è vero Guarda come se ne va Guarda ancora come se ne va Mezzo a tre Tre mila Oddio Dai no che culo Oddio Oddio Oh che culo fantastico Tu lo vuoi che è troppo piccolo Mese qua di gare Si 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 era vero Ma eravamo questa televisione No era più bello prima Scusa eh Infatti questa sembrava di merda Si però vabbè Maurizio Pereira doppie Comunque porco cane Ah si Dinamica Vai su dinamica Si boh Troppo vicini No Ma hai d'orti infortuni Si Chi è? Di Natale Di Natale Ma dai il più forte che c'ho No si si non è fuorigioco Non è fuorigioco Non è fuorigioco Oh oh Eddi No no Ti non puoi sbagliare Oddi Ma è entrata Come è entrata? Entra Ma è entrata No Pensavo Ma è fuori Ma che cazzo Buah L'ho chiusa Ma tu sai come è entrata Lo puttalo dentro io Eh si Cacca quella andava paro paro fuori No Entrava Non entrava Entravo così Tribuna stampa Giù Secondo campo Previsiva Tribuna stampa Non aspetta Campo al co-op Vai con la co-op Oddio che figa Ma che cazzo Si passa da quella lontana Quella che se metti più le visori vicini Vedi tutto il campo Oh mio dio se ne va a Ghirre Palla per Wittmer Ma dai Wittmer Io sai che mi gioco sempre Silva Oddio come se ne va a Gabriel Silva Gabriel Silva La butto in mezzo C'è Cirillo E tiro rete Cirillo Tiro 3 a 1 Ti riapre tutto Non è vero No No Guardiamo come si Dai Dai guarda come sbetta Cirillo Sto a vedere come sbetta Cirillo Dai guardiamo come sbetta Cirillo Oh ha sbettato bene Cirillo Dai Le ho messe tutte tranne tibula stampa Tibula stampa Stampe 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 Si torna a giocare normalmente che bello Ah manca pure Campo l'Ari Mamma mia Che palla per Ari Ari La butta Si mo vuoi troppo Vabbè che è pagato però non è Ronaldo Mori Eh eh guarda ci stanno i carcellini come Eh mori messi Vale la mia sartella Posso Posso per Thomas e il tuo Dai Veda Roma Bello Ero lì eh Ma che cazzo fanno Ero lì eh Oh Ancora Ari Ancora Ari Da oggi mi pio sempre il Krasno Te lo dico E che cazzo Ari 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 Hai fatto per colpo Ma sta giù Vergognati Ma che stai a dire Che comune ti ho pure smarca per portare la rigore Di solo che per colpo Cazzo Ari Sempre il mio regore Hai fatto per colpo Era fatto apposta per far segnare lui Si Te lo giuro Ari Vai col Campo l'Ari Guarda Guarda come ti sei ridotto Per segnare Guarda Dai che tra duro Pagato Che cazzo fulo Aosigno 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 Lo vede Ari Gio Aosigno BOOM Oddio che gog che stava a fa Ari Per cazzo questo Ari eh Che gog che stava a fa Ari Guarda che schifo Voglio farlo con l'Ari Un filtro del bagno fa più schifo di te proprio Un cassettone Certo Vabbè Vabbè Fai bocco Non schifo di te Però comunque C'è Non ti ho dato in niente Ma E statistiche Vabbè Dai C'hai quello buggato Eh certo Comunque ragazzi Se questo video vi piaciuto Lasciamo Arrangiato Che me l'ha falciato Lasciamo 40.000 like Se vi è piaciuto E noi ci becchiamo Al prossimo video Come sempre Bella Ciao Ragazzi se arriviamo a 40.000 like Chiudo il canale Facciamo un video nude Tanto non ci arriveremo mai Chiudo il canale Se arriviamo a 40.000 like Dai Bella